Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Mondi Cubi Ragazzi siamo ancora qua in caverna ma guardate che cosa ho trovato Ferro, diamante, lava, ferro, ferro, cioè redstone, redstone, ferro, oro, carbone, lapislazzuli, altro diamante E qua guardate cosa non c'è, ferro, redstone, ferro, carbone, ossidiana, lava, redstone, oddio c'è di tutto E cominciamo già con un bello sclero ragazzi quindi vediamo di spegnere questa lava del cavolo Di illuminare perché qua ci sono i mostri, ok, i mostri mostruosi Adesso spegniamo anche qua su questa lava, ok, perfetto E voilà, ok adesso qua c'è il diamante, per il diamante è il nostro piccone, picaxe, con fortunex Eccolo lì la lava, eh lo sapevo che c'era Lì potevano finire dei diamanti ragazzi, lì potevano finire dei diamanti Problema, prima di raccoglierlo devo assolutamente togliermi un po' di roba d'alimentario Come faccio? Lava hai fame, è vero? Ti butterò dentro un po' di roba Tipo, tipo la ghiaia, tipo, 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 tipo la terra Tipo uno stack di cobblestone, tipo altra terra, ok Basta, spero che sia sufficiente, qua c'è dell'oro che mi piglio subito perché l'oro mi likea un casino Ok, qua c'è, uh guardate quanto oro L'oro ragazzi non sembra ma servirà veramente molto in questa serie E qua c'è il ferro, ok Adesso però pensiamo a diamante Io ho visto almeno 3-4 pezzi, voglio almeno che escano una dicenda di diamanti Quindi ok, adesso togliamo via Ulla, guardate qua quanti diamanti Aiuta Aiuta Oh my god Oh my god 19 diamanti Eeeh, mamma mia Che cacchio è Ce ne erano 4, 5, no beh, ce ne erano un bel po' Allora, adesso vediamo di pigliarci il ferro Che brucerà nella lava, giustamente Ma no, perché? Io volevo il ferro, perché? Uff, no, non è giusto Allora, pigliamoci il ferro Allora, poi di cadere nella lava Abbiamo già preso uno spavento assurdo E ricominciamo con gli spaventi spaventosi Ok, riprendiamoci l'acqua Adesso Avevo visto altro ferro Della redstone Allora, prendiamo il ferro Beh, questo che è molto veloce a prendere Dai su Uh, qua c'è un'altra caverna Ehi, 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 ehi Tu cosa ci fai là? Cosa ci fai là? Qua c'è del carbone che lascio Ah, non so se avete notato quanto carbone è in inventario È una cosa vergognosa E adesso cominciamo a prendere la redstone E niente, ragazzi In questo episodio vorrei tornare in superficie Quindi probabilmente farò uno stacco Perché non voglio passare 500.999 episodi in caverna E niente, quindi Adesso raccolgo la redstone Ne uscirà fuori tipo un chilo Sì, proprio la redstone a chili E niente No, meglio la redstron Scusate, la pronuncia è importante Ehm, niente Quindi faccio questo piccolo stacco Nel quale cerco di risalire un pochettino Perché per arrivare fino a questo punto Sono sceso veramente, veramente, veramente molto E niente Quindi ci vediamo tra pochissimo Spero in superficie O comunque in una parte già più avanzata Ehm, rispetto in superficie Della caverna Quindi a tra poco Ok ragazzi, rieccoci Ho già messo il ferro qua dentro Ehm, sono andato in casa direttamente Ok E qua abbiamo già stack e stack di ferro Qua abbiamo ancora da mettere a cuocere Due stack di ferro Più mezzo stack di oro Qua abbiamo un botto di redstone Quindi penso che andremo a cubetizzarlo Come ho fatto col carbone Ma guardate quanto cavolo di carbone è uscito Ne è uscita una quantità disumana Vergognosa Quindi adesso andiamo a cubetizzare anche la redstone Che vi ricordo Per chi non lo sa Si può cubetizzare qualsiasi minerale Facendo così Ehm, niente Quindi adesso cubetizziamo tutto quanto Mhm Ok Cubetizza, cubetizza Tutto quanto Perfetto Guardate quanto ne ho Mamma mia Ok Ehm, basta 29 cubi Ok Direi che il bottino È tanto È decisamente tanto Ehm, qua ho ancora tanta roba da mettere Ma aspetterò a questo punto Come Dove la metto sta roba? Che deve essere cotta Direi qua Si, direi qua Ok E la farò cuocere poi dopo Ok Comunque ragazzi Allora continuiamo Ehm, appunto adesso andremo A fare lo smistamento chest Allora Ehm, mi aspetta Un Grande 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 lavoro off camera Ehm Che ho cercato di Ehm In questi giorni di pensare Come velocizzare Ma purtroppo Non c'è un modo Devo semplicemente Lavorare veramente tanto off camera Perché dovevo andare a fare uno scavo Ovvero lo scavo Della stanza dello smistamento chest E credetemi Se vi dico che Oddio Questi chunk non si caricano Mi fanno sclerare come Non so cosa Davvero Ehm Nel frattempo Poso il piccone Che poverino Lui non ha fatto niente Povero piccone Ti voglio bene piccone Guardate qua Tre picconi con fortuna tre Oh yeah Like it Ok Comunque posiamo tutto Qua un po' di cubi Qua Il nostro secchio Fedelissimo Il nostro immancabile secchio Qua ci sono la spada La pala Ok abbiamo tutto Ehm Dovevo incantare ancora un po' di cose Però penso che Non mi sento di fare Nello stacco Anche questo lavoro qua Di farming Perché Ehm Oltre a causare lag Ehm Richiede anche veramente Molto tempo Quindi ragazzi Direi che adesso Comincio questo lavoro off camera Che vi illustro brevemente Quale sarà Dovrò scavare una stanza Più grande Molto più grande Credo Di quella che abbiamo qua Nella home Sì credo Decisamente più grande Ehm Almeno credo Poi magari può essere Anche più piccolo O grande uguale E in questa stanza qua Quindi comincerò Allargandomi Allora Facciamo un attimino Due conti Qua ho cinque cubi Quindi allarghiamoci Di cinque anche di qua Ok quindi qua abbiamo cinque Qua abbiamo cinque Una palla Grazie Grazie mille Ok Allarghiamoci di cinque Anche qua Dovrebbero essere cinque Vediamo un po' Due Tre Quattro Cinque Perfetto E sono quindici Per quindici Per lato sono Allora Vediamo un attimino Due Tre Quattro Cinque Sei E sette Ok quindi Il doppio Di lunghezza Pure Si ragazzi Sarà una cosa Abominevole Veramente Sarà scandalosa Facciamo un attimo Due conti di qua Allora Vediamo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Ancora cinque cubi Uno Due Tre Quattro E cinque Ok tutto Questo dovrà essere scavato E credo sicuramente Il 99% dei casi Che non funzionerà Cioè che non basterà Quindi devo allargarlo ancora Perché le cose a smistare Abbiamo visto In creativa Sono veramente troppe Abbiamo veramente troppe cose a smistare E anche se la svilupperemo Su più piani E comunque Sono comunque troppe le cose a smistare Quindi Faccio questo piccolo stacco Anzi non dico questo piccolo stacco Dico questo grande stacco Lasciate un like per quello che sto per fare Anche perché Se ci riuscirò veramente Sarà una cosa assurda E niente Qua mi sono ricordato Che devo mettere dei cubi Perché altrimenti rimane lo spazio vuoto E non mi Non mi garba Non mi garba per niente Quindi andiamo lì a riempire Ok E andiamoci a mettere anche le dovute torce Le dovute torce Che andrebbero messe Così 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 E Così Sì qua C'è anche il solito lavoro della clay da fare Però Aspetteremo Perché qua Vi avevo già detto che voglio fare dei lampadari Tipo Delle specie di lampadari E niente ragazzi Quindi Faccio questo stacco Che l'ho già detto prima E ci vediamo tra poco E rieccoci ragazzi Allora Ho fatto un bel po' di scavo Però adesso voglio prendermi I miei livelli Mamma mia Guardate quanto ferro Tre stack di ferro Così Easy 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 Allora Adesso prendiamo Un bel po' di carbone Un bel po' di carbone Ok Tanto ne abbiamo anche qua E mettiamo Carbone 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 E carbone E mettiamo Ferro Ferro E oro Ok perfetto Adesso Mi dobbiamo attivano Se ho altro ferro da far cuocio Che no Adesso Cosa facciamo Facciamo un paio di cosette Allora Prendo gli stick Che ho qua Vado a costruire Allora mi servono anche tre diamanti Ai 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 I primi diamanti che Sprichiamo Beh sprichiamo Li utilizziamo Per una cosa Per una giusta causa Salveranno il mondo Ok Prendiamo E facciamo un piccone Di diamante Wow Poi facciamo Un'ascia Di ferro Poi andiamo a fare Un Una pala Di ferro Ok Poi andiamo a fare Un altro piccone Questa volta in ferro Spero che esca efficienza E E niente Voglio un'altra fortuna E un'altra efficienza Vorrei che appunto Uscisse qualcosa di figo Su questo piccone di diamante E niente Quindi adesso andrò a farmare Come un pazzo Con la P maiuscola Però prima farò un po' Di cubi di ferro Perché mi gasano Un botto i cubi di ferro Mi gasano Un casino Oh guardatevi qua Finalmente Finalmente Ok 21 cubi di ferro Moltiplicateli per 9 E godete Allora Mettiamo qua il nostro lingotto Che è rimasto solo Forever alone Qua abbiamo un'altra cobblestone Che io odio Perché Non muore mai la cobblestone Abbiamo sempre Un casino Dove arrivano questi 6 stack Di cobblestone? E se arrivassero tipo Dallo scavo che ho fatto Sì infatti adesso Vado a farvi vedere Lo scavo che punto è Ho fatto questa piccola pausa Perché ho scavato già come Non so cosa E però C'è lo smistamento del chest Ho anche pensato Di provarlo a fare all'aperto Ma sarebbe venuta Una cosa bruttissima No Ve la risparmio questa È meglio farlo al chiuso E rimanere impressionati Semplicemente dal meccanismo Quando uno arriva Rimane impressionato Da tutto questo meccanismo Che ci sarà Perché questa stanza Diventerà una cosa assurda Eccola qua Questa qua è la stanza Guardate ho scavato Praticamente Non lo so Questo è rimasto Questa cacchettina Di stone Ma poi la toglierò Perché appunto Mi si è dato il piccone Adesso con questi Trento cinque livelli Mamma mia quanti Andiamo a incantare Il primo Il primissimo Piccone Di Diamante Che incantiamo seriamente Con trenta livelli Quello che avevamo prima L'abbiamo incantato con Mi sembra indistruttibilità Sì Cioè pochissimi livelli Comunque Tatratatata Indistruttibilità tre Mi stai prendendo per il culo Stronzo di un Ok Va bene Indistruttibilità tre Va bene Grazie Me lo ricorderò questo Allora qua Abbiamo un'istruttibilità due E quindi puoi anche andare A quel paese Quanto ti odio Minecraft Prendiamo la spada Perché sapete già Come andrà a finire Con tutti questi livelli E Niente Auguratemi Buon farming Signor ferre Adesso penso che Per evitare Ulteriori scocciature Visto che Già sarà Non sarà Molto semplice Andrò momentaneamente A tappare Tutto quanto Perché non voglio Che arrivino pure Dei mob Mentre io sono qua Che sto Già laggando Per appunto Cause Di spawn Esagerate Quindi andrò a tappare Le eventuali Le eventuali Aperture Ok Così non dovrebbe passare Nessuno Giusto Vediamo un attimino Si non dovrebbe passare Nessuno In questo modo E niente Quindi Vabbè tappiamo ancora questa Scusate Quindi ragazzi Faccio questo stacco E Incanto un bel po' di roba Logicamente la parte Dove Sono lì a A raccogliere la roba La lascio Perché so che vi piace Ho del ferro qua con me Ho del ferro Non ho del ferro Quindi Picconi Ne ho pochi Vabbè Qua metto un altro Pezzo di cobblestone Così mi ricordo Di toglierli Perché adesso non voglio Usare piccone Non incantato E Niente ragazzi Quindi Mi sigillo Ermeticamente Dentro la mia Bellissima Farm Controllo Le fps Che ho qua in alto E appena arrivano Arrivano sotto i 10 Che proprio Minecraft dice Scusa sto per esplodere Io le dico Ok Minecraft È il momento E E niente Quindi ci vediamo tra poco Ragazzi E Speriamo di Di fare tanta bella esperienza Ok ragazzi Rieccoci Il lag non è alto Come l'altra volta Non ho voluto Andare in una situazione Così critica Diciamo Eccolo qua Qua prendiamo La TNT L'accendino Eccetera eccetera E facciamo il solito lavoro Quindi Ricapitolando TNT Accendino Oddio Tappiamo tutto Allontaniamoci Lagatissima E adesso Si parte con l'XP Ecco Siamo pronti Guardate Ne arriva già un botto così Aiuto Eccola qua che arriva Ok Oop Ok Ok Eccola qua Alleluia È molto meno D'altra volta Si È già più fattibile Però Ci può stare Così si dai Va bene Va bene Va bene Basta Basta Allora Incantiamo subito L'Ascia Ok Perfetto Qua ci sono altri livelli Fantastico Si è molto più Fattibile D'altra volta Qua Continuano arrivare Delle grandissime Armature Eccetera eccetera Che mettiamo Tutti quante qua Altri 30 livelli Si ci sono tutti Ok Inclatiamo una pala Perfetto Continuiamo a fare livelli Che figata ragazzi Mi diverte un casino davvero Oh Che bello Ok 22 livelli Perfetti Adesso ne facciamo un paio così Ok Oh guardate quanti bei pezzi di armatura Questi schede diventano sempre più potenti Nel frattempo l'hopper sta lavorando Si sta lavorando l'hopper Ok Andiamoli una mano Pover hopper Se no muore Ok Dai dai Ok Guardate qua quanta roba Davvero si intasa questo hopper Ok Si guardate qua gli archi Come passano Le armature Oddio Un bot di roba ragazzi Posiamo qua un paio di cose Quindi allora posiamo Tutta sta roba qua Vabbè poi andrò A riporre il suo posto off camera Altrimenti Vi annoio Andiamo a mettere a posto la roba qua Magari Ok Ok Tac Perfetto Guardate quanti drop Incredibile Quanto sia efficiente questa farm Ho anche letto i vostri commenti Ho visto che veramente Mi piace un casino questa farm E mi fa piacere Comunque Direi che Eh Si Oddio Cosa faccio Si direi che comunque Possiamo ritenerci soddisfatti Buttiamoci dentro Ancora un po' di Cavolate Dai Su però Perché non le digerisci Devi digerirle Ste cavolate Proprio L'hopper Non ce la fa A smaltire tutte ste cose insieme Pover hopper Ok Comunque Abbiamo incantato Una palla e un'ascia La spada non è servita Beh Va bene lo stesso Usiamo tutta sta roba qui Ok Altro da smistare Direi niente Quindi tiriamo il pistone Rimettiamo a posto L'ascendino TNT ne abbiamo ancora Per un paio di utilizzi Un pezzo di cobwe Se lo tiriamo qua E niente Quindi adesso che ho Ufficialmente Non ho incantato il piccone E beh lo incantiamo subito Ci va poco Tanto Mancano pochi scheletri E comunque appunto Incanto il piccone Indipendentemente da quanto uscirà A meno che non sia un fortuna Se sarà un fortuna Utilizzerò questo E Ci sarà un fortuna E comunque Indipendentemente da cosa usa Da cosa uscirà Oddio Se riesco a parlare E lo utilizzerò Per Appunto Andare a Come posso dire A scavare A fare quello scavo in ormai Qua nel frattempo vedo che ci sono Delle armature abbastanza buone Che vado a riporre Qua Io voglio Queste armature qua Assolutamente Perché mi piacciono un casino E Vediamo 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 Queste cose si possono unire Sì le armature di maglia Mi piacciono veramente un sacco Per chi non lo sapesse Ok Andiamo a unire Perfetto E se ci fosse un armetto di maglia Tipo questo Ecco me lo metterei Perché mi piace Ok Wow Ok Quindi E appunto Incanto ancora questo piccone Scavo ancora un po' E Ci vediamo tra poco Sperando di aver finito il lavoro Ok ragazzi Rieccoci E Mamma mia Guardate che scavo che ho fatto Incredibile Veramente Ci ho messo un bel po' Credetemi Che non è stato per niente facile Comunque Adesso cominciamo È notte Quindi direi di andare a dormire Sì Cominciamo col crafting Dei primi componenti Per cominciare Lo smistamento ceste Anche se dovevo fare anche uno stacco Perché andrò a fare il pavimento Che sarà tutto fatto Da queste slab Vi faccio vedere come stanno Stanno veramente molto 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 bene E Quindi vado a farvi vedere come stanno Allora mettiamole pure qui Ok Facciamo giusto una piccola area Ok guardate qua E voilà Vedete che stanno molto molto bene Comunque le andrò a mettere off camera Queste E adesso vi faccio vedere Piuttosto Cosa Dovremmo costruire Allora prima di tutto Facciamo un repeater Che se ne facciamo Allora ne facciamo Ne facciamo Non uno Ne facciamo Un bel po' Allora si fanno così Se non sbaglio Repeater Aspettate Devo togliere un paio di cosette Allora facciamo così Ok Così Perfetto E così Ok Allora Facciamo Prima di tutto Un paio di Torce No di torce Si di torce di pietra rossa Allora Redstone Ok Tacchete Perfetto Andiamo a farne 32 Ok Andiamo a metterle qua Andiamo a metterci Questo E andiamo a metterci Questa roba qua Perfetto E così facciamo 16 repeater Poi andiamo a fare I comparatori Che se non sbaglio Si fanno così Ok Anche qua Servono delle torce Di pietra rossa O meno di Si di pietra rossa Giusto Ok E ancora Cos'altro Beh aspettate un attimo Mettiamo prima Le torce E il quarzo Ok E cos'altro ci serve Se non sbaglio Manca E mancano Queste Ok così facciamo i comparatori Ne ho fatti solo due Si beh va bene Comunque vi ho spiegato Giusto il crafting Com'è Poi appunto Ne andrò a craftare Veramente tanti A seconda delle esigenze E niente Comunque adesso faccio Tutto il pavimento E ci vediamo tra poco E rieccoci ragazzi Spero che vi sia piaciuta Appunto il pavimento Che vi sia piaciuto Scusate non piaciuta E niente Adesso cominceremo appunto A fare il meccanismo Che lo andremo a fare qua Allora io ho Una piccolissima idea Allora se qua io metto Il soffitto viola E qua metto una cassa Ok Qua posso mettere un hopper No perché non c'ho lo spazio Allora peccato Se non potevo fare una cosa carina Pazienza Allora andiamo a fare qua Appunto Il Riportare il Il circuito Quindi adesso andrò A scavare Questa parte di muro Dovrò fare Un grande scavo Perché voglio fare Anche un'area Che mi consenta Di andare dietro Il circuito E Appunto per poterlo Giornare Oppure riparare Dei filtri O cose così Solite cose No ragazzi Quindi Io adesso faccio ancora Un altro piccolo stacco Lo so questo episodio È Caratterizzato Da molti stacchi Perché È un lavoro Piuttosto lungo Comunque adesso appunto Devo fare per forza Questo Questo lavoretto qua Ditemi un consiglio Ditemi un consiglio Su un materiale Che abbiamo magari Anche usato in un'altra stanza Che si abbina bene Con questo Con queste stone slab Quindi Ragazzi Io faccio ancora Questo piccolo stacco Vi chiedo ancora un attimo Di pazienza Poi cominciamo col circuito E quindi ci vediamo tra poco Ok ragazzi Eccoci Sono qua Ho piazzato delle casse Il primo hopper E la casa generale Allora la casa generale Sarà il sesto blocco D'altezza Quindi qua rimarrà Un blocco vuoto Ma intanto Non lo vedrà mai nessuno E Qua appunto Ho l'inizio Di queste casse Adesso Piazziamo Cominciamo a piazzare I primi hopper Allora il primo sarà questo Che sarà l'hopper Che andrà dentro Per il meccanismo Poi ci sarà un blocco Poi ci sarà Una torcia Di pietra rossa Ok Che piazziamo Qua così Perfetto Poi qua avremo Un repeater Ragazzi Quindi mettiamo qua Un bel repeater Perfetto Poi abbiamo qua sopra E un altro Un altro hopper Ok no Ho già sbagliato Questa roba qua Va spostata più sotto Ho detto già una cavolata Ok Comunque il meccanismo Se volete Ce l'abbiamo qua In creativa Così ve lo spiego Anche più velocemente Allora adesso Cominciamo dalla Dalla cassa generale Allora mettiamo Un hopper Che guarda di qua Un hopper Che guarda di là Quindi cominciamo A mettere I primi due hopper Lo facciamo passo a passo Come ce l'abbiamo In creativa Quindi andiamo di qua Allora mettiamo Il primo hopper Sotto la cassa Che si mette esattamente Così Se ce la faccio Aspettate Magari Se ce la facciamo Ok così E Oddio Cosa sto facendo Blocchi ne ho Ok Facciamo così Allora Ragazzi scusate Questo momento Di impiccio Però è un po' Difficile da fare Ok Allora Andiamo a mettere qua Il primo hopper Perfetto Qua possiamo Togliere tutto Ok Togliamo tutto E di qua Andiamo avanti Piazzando degli hopper Quindi ne piazziamo Uno Che guarda di qua Uno che guarda di qua Poi Piazziamo un blocco Sulla cassa Uno Che guarda verso la cassa No Si che guarda verso la cassa Giusto Poi un altro Che guarda verso la cassa Ok Poi Andiamo a mettere Sotto Questo hopper qua Andiamo a mettere Un blocco Andiamo a mettere Un repeater Qua Non repeater Scusate Un comparatore Così Poi andiamo a mettere Due blocchi Ok così Andiamo a scavare Un pochettino Qua Ok Qua andiamo a mettere Un repeater Qua andiamo a mettere Andiamo a rompere Questi cubi E andiamo a posizionare Una torcia di pietra rossa Ok Oddio Dove l'ho messa? Qua Ok Spiazziamola E infine Prendiamo un po' di redstone Ok Adesso andiamo a mettere La redstone Ragazzi Che si metterà qua E adesso vi faccio vedere Che praticamente Teoricamente Il meccanismo È già finito Vado un secondo Prendere i diamanti Ragazzi Così possiamo già Cominciare a fare il filtro Perché la prima Voglio logicamente Farla con i diamanti Il primo filtro E niente Quindi vado a prenderli E torno Ci vediamo tra poco Ok ragazzi Ok ragazzi Rieccoci Con l'ultimo stacco Credo E allora Qua praticamente Abbiamo collegato Tutti quanti gli hopper Ricapitolando Che vanno in questa direzione Poi appunto Noi continueremo Come vorremmo noi Qua posso già Cominciare ad allargare Un pochettino Ma tanto Lo faremo poi noi E appunto Cominciamo a fare Il primo filtro Che si fa così Allora Mettiamo Un diamante qua Quattro diamanti qua Meglio Quattro volte I diamanti Ancora una volta La quinta Uno qua E uno in fondo Che sparirà Ok A dove andrà Andrà direttamente qui Da adesso Noi quando arriveremo qua E metteremo i diamanti qui Loro partiranno E si smisteranno Automaticamente qua Adesso qua c'è già un hopper Dimenticato Non so perché Comunque qua abbiamo già i diamanti Adesso appunto Andrò a mettere Un item frame Con un diamante di qua E un diamante di là Praticamente faremo andare Una decina di diamanti Solo per fare Il filtro Però appunto Poi avremo Tutto quanto pronto Allora per il resto Ragazzi qua Metterò Una porta In modo che Noi possiamo accedervi A quest'area Quando vogliamo E niente Quindi direi che Poi nei prossimi episodi Andremo avanti Adesso mi aspetta molto La loro camera Perché devo pulire Ancora tanta area Qua E cominciare a fare Almeno un po' di smistamento Qui tra i primi materiali E eccetera E comunque Faremo ancora Delle aggiunte A questo smistamento Più avanti Ma ve le spiegherò Tipo agli angoli Ma ve le spiegherò Poi perché sono Abbastanza complicate E niente Quindi Adesso vado A craftarmi Una porta E che metterò Lì Così Questo qua La faccio insieme A voi Nel frattempo Vi invito Come al solito A lasciare un like Perché youtube E stronzo A commentare A iscrivervi Al canale E a mettere Mi piace Il video Se appunto Vi è piaciuto Beh A aggiungerlo Ai preferiti A condividerlo Su facebook Potete fare Cosa volete voi Ragazzi E eccola qua La porta Perfetto Adesso andremo A mettere una scaletta Non penso che Faremo tutto questo Di mattoni Si Penso di si E faremo un po' Di argilla Azzurra Sul soffitto Qua e là Da qualche parte Faremo un po' Delle decorazioni Niente Questo qua Anche se Molto spartano E' il meccanismo Anche quest'area Andremo poi A aggiustarla tutta Non state guardare Com'è L'importante Che funzioni E niente Direi che qua Facciamo un bellissimo Bellissimo Soddisfacente Screenshot Eccolo qua Ancora uno Ok E niente ragazzi Quindi Ancora uno screenshot Dentro per il meccanismo Che mi like A un casino No Non si può fare Perché non ho spazio E pazienza E niente Qui la porta Rimarrà Con questo Spazzettino vuoto Ma pazienza Quindi Io vi saluto Come al solito E spero che il video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un like Fate cosa volete Quindi non mi resta che Salutarvi E darvi appuntamento Al prossimo episodio Ciao a tutti